benvenuti in questa nuova puntata del podcast fatturare 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 io sono che cazzo ridi benvenuti in questa nuova puntata del podcast fatturare 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 io sono Alberto Frisoni e oggi qua con me non abbiamo un ospite ma diversi ospiti tra cui Tommaso Sermanni e Samuel Pozzoli buongiorno a tutti e benvenuto anche al direttore vendite grazie grazie benvenuto che è già passato di qua allora ragazzi io direi che secondo me il topic di oggi è abbastanza facile e intuitivo parliamo di vendita possiamo dire due guru della vendita perché no scherzi a parte comunque effettivamente il lavoro fatto che avete fatto negli ultimi 3-4 anni effettivamente vi ha posizionato per per diciamo per essere un punto di riferimento a tutti gli effetti italiano in questo in questo ambito ecco quindi diciamo insieme io e patrick oggi faremo gli intervistatori quindi mi aiuterà patrick parleremo un po' di tutto a 360 gradi soprattutto io darei molta informazione diciamo sotto questo mondo quindi partiamo un attimino dal panorama della vendita italiana come diciamo come lo vedete ecco magari come l'avete visto crescere in questi anni domanda interessante vado io vai tu vai tu vai tu allora noi siamo partiti nella vendita 5 anni fa a fare i venditori e tutto quanto e noi siamo partiti cosa non scontata che va sempre detta a fare i venditori prima di essere formatori e guru come dicevi te nella vendita che non è così scontato al giorno d'oggi e beh si è sicuramente voluto diciamo che da un punto di vista anche aziendale ci sono sempre ogni singolo giorno ogni singolo anno molte molte più richieste da parte di aziende che in primi se lo vediamo sulla nostra pelle ci chiedono tanti venditori e che hanno sempre bisogno di venditori prima si parlava magari dell'azienda un pochettino più piccola e strutturata al giorno d'oggi veramente tante aziende sempre più grosse ci chiedono venditori perché hanno bisogno di figure di questo tipo qua quindi sicuramente la parte aziendale la richiesta di venditori si è evoluta esponenzialmente in questi anni e logicamente anche quella che è la parte di persone che formano venditori si è ovviamente andata a ingrandire da le persone che come dicevo prima non hanno mai venduto e hanno voluto fare il corsettino sulla vendita fino a persone che non siamo oggi sul mercato a fare quello che abbiamo fatto cioè fortunatamente ci sono altre persone che l'hanno fatto che formano costantemente i venditori per dare ad altre aziende quindi il panorama si è evoluto molto sicuramente come conseguente espansione del mercato fondamentalmente ecco secondo me una delle cose interessanti da approfondire è questo cioè l'idea del venditore telefonico sembra una cosa moderna ma in realtà è una cosa che c'è sempre stata la vediamo oggi come una cosa nuova ma in realtà che poi magari prima un po' più visto sul teleseller eccetera che chiaramente non è ciò che insegnate voi e quant'altro però è in realtà una figura che è sempre esistita non è che è una novità come fosse non so il social media manager che è solo una roba degli ultimi dieci anni cambia il metodo, cambia magari prima si faceva vendita porta a porta, vendita dal vivo tradizionale ora magari cambiano i mezzi però il concetto è il medesimo le persone molte si stupiscono vendita telefonica è un qualcosa di totalmente innovativo il concetto è lo stesso parlare con le persone, presentare una soluzione però cambia magari che si fa a mezzo telefono o videochiamata esatto non nascondo il fatto che comunque lavoriamo anche insieme quindi questo è sicuramente un modo per dare valore aggiunto a questa cosa ecco io a parte che lo vediamo un po' anche tutti i giorni forse tu vedi sicuramente molti più venditori rispetto a me ne gestisci diversi e quindi magari io entrerò un po' più nel dettaglio anche proprio sull'ambito lo stesso venditore la tipologia di venditore c'è anche le persone che magari ci guardano e dicono ok ma com'è il venditore che ha risultati il venditore di successo il venditore top 1% sì allora ne abbiamo parlato un po' noi di questa cosa qua e volevo poi lasciare la parola anch'io a Tommaso e a Samuel giusto per dare anche la vostra ideologia della figura del venditore che poi arriva diciamo ai massimi livelli quindi cercare di dire si parte si fanno questi step e poi cosa serve poi anche magari per dire vado ai massimi livelli dell'ambito della vendita perché magari ognuno ha il suo punto di vista noi ci vediamo frequentemente ci sentiamo e tutto siamo molto allineati poi su questa cosa infatti come diceva Alberto collaboriamo quindi voi ci passate le figure ok fanno certi tipi di percorso poi che seguono i vostri percorsi di formazione li seguite in coaching e tutto quanto e quindi c'è molta linearità su questo pensiero però magari proprio io lascerei la parola a voi dire ok com'è che voi vedete la figura per diventare i massimi livelli del venditore top 1% ecco chiamiamolo così sicuramente il nostro punto di vista è che una persona per realmente scalare e arrivare ai massimi livelli ha bisogno sì di tante informazioni tecniche ma serve molto anche l'aspetto mentale un approccio che sia corretto e lineare perché lo sappiamo tutti da Napoleon Hill in pensare che c'è stesso è fondamentale l'approccio mentale se non hai quello non puoi pensare neanche a arrivare al primo livello pensa al decimo è sicuramente impossibile quindi questa è una cosa sicuramente importante ovviamente serve anche un bagaglio di informazioni che si costruisce e che continua a essere costruito nel tempo ci sono diversi nostri studenti anche diversi venditori che fanno l'errore magari di formarsi fare i primi risultati online i primi risultati con la vendita collaborano con azienda XYZ e fanno i primi risultati poi pensano di aver raggiunto il gap massimo e smettono di prendere nuove informazioni e questo è un errore sia da un punto di vista informativo che mentale perché il gap massimo lo decidiamo noi noi scegliamo quando arriviamo al livello che vogliamo arrivare se ci accontentiamo del primo livello non arriveremo mai al decimo quindi sicuramente lo step più importante è essere in asset giusto a livello mentale per potersi permettere di alzare costantemente gli standard e il classico venditore che sta tutto sul divano aspetta che gli arrivi nei lead e chiama solo quando gli arrivano magari fa buoni numeri ma non farà mai numeri eccezionali perché serve il venditore che ha la predisposizione nel cercare sempre quel qualcosa in più ricontattare i vecchi lead che non hanno mai risposto i vecchi lo show e fare costantemente upsell quindi è sempre più facile aspettare che arrivino i lead e chiamarli e chiuderli ottimo ma come ti garantisci una continuità e un fattorato sempre più alto facendo quello che gli altri non fanno logicamente come sempre quindi questo secondo me è importante chiaro Tommaso che te la vedi così? sì sì sono assolutamente d'accordo allineato anche perché alla fine il venditore se ci pensiamo offre una soluzione poi all'imprenditore all'azienda i venditori che avete voi in azienda sostanzialmente sono una soluzione per voi cioè vi aiutano a coprire un reparto dell'azienda quindi più divento bravo più divento competente più riesco a risolvere dei problemi dell'imprenditore più comunque potrò crescere anche da un punto di vista economico assolutamente quindi sì formazione costante crescita costanza per forza ok per chi vi vede magari anche per le prime volte magari comunque siete già molto conosciuti in Italia per quanto riguarda l'ambito della formazione sulla vendita telefonica che poi magari andremo a toccare anche delle tematiche specifiche siete ragazzi giovani anche voi un po' come noi e tutto quanto quindi mi piacerebbe magari affrontare un po' come voi avete vissuto il percorso di magari quando siete partiti come venditori se avete avuto l'esperienza sul campo e tutto quanto le difficoltà e capire magari anche le dinamiche della crescita della vostra attività perché immagino che comunque non è che si apre un'azienda e si arriva subito al successo quindi magari anche tutti gli step di difficoltà che avete vissuto tutte queste cose qua le dinamiche cioè perché magari uno non vi conosce e vi vede e dice vabbè questi qua chi sono cioè no nel senso quindi giusto dare per dare un po' anche la crescita di tutto quello che avete fatto in tre anni circa quattro anni quattro anni ok quindi vai partite voi spiegateci un po' questa cosa noi siamo partiti come venditori quindi collaborando con altre aziende sfruttando quella che è l'abilità della vendita e poi continuandoci anche noi in primis a formare per diventare sempre più bravi poi è nato un po' l'interesse l'ambizione anche per l'attitudine magari personale a voler avere qualcosa di nostro che andasse oltre alla vendita che potesse essere imprenditoriale quindi avere la nostra realtà avere la nostra cosa che non vendere più per qualcun altro lì è nata l'idea di strutturare un'azienda di fare un qualcosa solo nostro però chiaramente le difficoltà non è che sono finite a quel punto cioè ciclicamente ci ritroviamo a riscontrarci con problemi con dinamiche da gestire sono iniziate da lì eh sì esatto quando avete iniziato a dire faccio faccio impresa poi da lì sono iniziate esatto le persone magari ci vedono pensano che ok siete arrivati a un punto in cui siete tranquilli in realtà non è mai così non è mai così nasca un nuovo problema è chiaro Albi te poi lo sai bene questa cosa qui sì no io faccio secondo me uno deve imparare a convivere con le difficoltà cioè nel senso ma in modo non più vedendole come oddio c'ho il problema è proprio fa parte del è come il venditore che deve dire ok devo risolvere l'obiezione eh quello è il gioco cioè al fine quello that's it no? avere proprio un'attitudine che c'è un problema ok devo risolvere risolverlo senza come se fosse qualunque altra cosa ho fame mangia un problema lo risolvi chiaro in termini un po' più specifici no? nel senso partendo proprio dal quando facevate i venditori giusto anche per capire voi magari avete conosciuto la vendita telefonica cinque sei anni fa visto che magari hai quattro anni che avete l'attività bene cinque anni fa sei anni fa la vendita telefonica era ancora un po' un tabù dai diciamocelo così in Italia no? cioè i venditori erano quelli che andavano in giro con la 24 ore ok? gli agenti di commercio chiamiamoli così no? quindi avete visto questa cosa qua poi magari mi ricordo anch'io quando ho iniziato ad affacciarmi questo mondo qui tramite il network marketing e tutto che poi io sono stato un po' la persona che ha fatto la persona che ha fatto da collegamento del mondo del network marketing con la vendita telefonica quindi era un po' un qualcosa di complicato anche questo farlo capire alle persone però giusto anche per capire in termini di numeri ok? cioè voi sei anni fa siete partiti avete fatto il primo lavoro di vendita telefonica cioè che tipo di lavoro è che facevate con che aziende e soprattutto che numeri è che sviluppavate sei anni fa da liberi professionisti nella vendita telefonica considera che noi siamo partiti a fare vendita senza una formazione quindi prima abbiamo fatto vendita poi ci siamo formati e ci siamo formati alla vendita perché ci siamo resi conto che ne valeva effettivamente la pena dopo aver speso barra buttato diverse miliardi di euro in corso magari nei classici business che tutti quanti conosciamo che non dominiamo e abbiamo fatto vendita e abbiamo detto ok in questa cosa qui ha senso mettere il nostro focus e quindi visti i primi risultati pochi risultati con la vendita ci siamo formati e abbiamo visto ok effettivamente ne vale la pena continuare a spingere in questa direzione perché è un'abilità realmente richiesta e che realmente merita il nostro focus in termini di numeri i primi mesi in realtà erano molto soddisfacenti abbiamo sembrato tutto quanto insieme sia a livello di venditori che dei primi business prima e anche a livello aziendale ora siamo soci e da sempre quindi voi siete partiti a fare i venditori insieme esatto ok senza avere una formazione senza minimamente conoscere la vendita telefonica esattamente ok interessante tra l'altro apro e chiudo parentesi siamo stati anche penso tra i primi setter nel panorama italiano perché noi settavamo le persone le portavamo in call e le chiudevamo ok quindi facevamo tutto il processo dall'A alla Z e a livello di numeri molto soddisfacenti i primi mesi già staccarci qualche migliaia di euro a testa 2-3 migliaia di euro a testa fino ad arrivare mi sembra un mese nemmeno il decimo mese quindi il terzo quarto mese a staccarci in due una roba come 18.000 euro in due quindi 8-9.000 euro a testa cifre molto interessanti esatto già per 5 anni fa esatto non conoscendo il panorama di oggi della vendita telefonica esattamente ok e l'azienda con cui collaboravate non serve il nome però che nicchia è che trattava a livello di prodotti o che magari voi siete passati a livello di prodotti prettamente a livello di servizi di marketing per aziende quindi sempre nel mondo del business del marketing e tutto quanto aziende di questo tipo qua ok quindi voi avete iniziato a sviluppare questi numeri qui poi un giorno vi siete guardati e avete detto ok abbiamo capito come funziona ci siamo formati iniziamo a fare impresa su questa cosa sì c'è stato uno step in mezzo in cui ci siamo formati e diversi anni fa come dicevo prima appunto il panorama dell'online della vendita non era così strutturato come oggi ovviamente e col passaparola c'erano diverse persone che ricevevamo delle mail mi ricordo di persone che volevano che gli formavano i venditori che volevano che vendevamo addirittura per loro ok quindi abbiamo detto ok il mercato effettivamente vuole questa figura noi siamo questa figura il mercato vuole questa figura colmiamo un vuoto di mercato formiamo le persone per darle alle aziende poi c'è stato lo step in mezzo chiaro chiaro quindi siete partiti insieme tutto quanto gap abbiamo iniziato a fare questa cosa la tempistica poi che è passato magari delle dinamiche di difficoltà come accennavo un po' all'inizio da quando è iniziata l'azienda e tutto quanto cioè la visione magari c'era era forte ok in quest'ambito e tutto però quando è che poi siete diventati veramente grandi dopo quanto tempo dopo quanto tempo le dinamiche cosa avete dovuto mettere un po' in campo anche per andare a prendere oggi quelle che sono magari le figure che vogliono diventare venditori telefonici setter tutte queste figure qua in Italia io mi ricordo che eravamo in vacanza in Puglia e lavoravamo come venditori telefonici infatti avevamo le nostre chiamate da fare mentre eravamo lì con un po' di amici e lì inizia iniziavamo a sviluppare sempre di più questo pensiero di appunto creare qualcosa di nostro però in maniera più ufficiale non semplicemente formare magari i venditori per le richieste che ci arrivavano però fare proprio una realtà e mi ricordo che avevamo messo un po' di soldini da parte con l'attività di venditori e noi avevamo messo in conto che avremmo eravamo disposti a mettere tutto sul piatto anche vedere un calo comunque delle nostre iniziate perché avevamo deciso di interrompere poi l'attività come venditori e dire ok ora total focus su questo quindi abbiamo messo sul piatto quelli che erano i soldi che avevamo messo a parte siamo andati a Tenerife per la prima volta ci siamo rinchiusi in questo appartamento lì e lavorare 14 ore al giorno e abbiamo abbiamo lanciato per la prima volta il business e però le cose non sono andate bene fin da subito chiaramente ci sono stati un po' di mesi penso sei mesi forse sei, sette mesi tutti sì dove comunque sì, si vedevano dei risultati però chiaramente tutto quello che arriva lo investi lo vai continuamente a rimettere sul piatto fino a che non inizi a vedere ok abbiamo fatto la scelta giusta ne sta valendo la pena ha senso quello che stiamo facendo però sì per i primi mesi ovviamente non nella tutta rosa e fiori chiaro vabbè io vi faccio qualche domanda sull'azienda intanto vi chiedo soci al 50% yes ok Arfio vi bastonerebbe no vabbè scherzi a parte riprendendo un po' il concetto che hai detto sul tema che poi siete andati a tenere i fie anche se eravate via secondo me ecco che io non è che vedo però secondo me lo percepisco dopo la pandemia comunque le persone non cercano più solo un lavoro normale cioè se prima era veramente utopia quando tu dicevi lavoro da casa la gente dice a te non fai un cazzo oggi in realtà quando parli di si può lavorare da casa la gente dice ma cazzo aspetta se c'è un'opportunità di lavoro da casa aspetta che voglio saperne di più perché oggi secondo me le persone cercano anche non solo più un lato solo economico ma vogliono guardare tutti i benefici no? dire cazzo però aspetta se faccio la vendita telefonica posso imparare un mestiere posso lavorare a casa posso gestire il bene del tempo posso fare tutta una serie di cose che alla fine conciliano con il beneficio dell'essere umano perché poi sei felice riesci a fare le cose che vuoi secondo me è quella via di mezzo in cui sei libero ok? anche se magari concretamente tu non è che sei libero come dice o che sono il capo di me stesso però alla fine è come se tu non avessi dei capi cioè se così vogliamo dire no? secondo me è quel connubio perfetto tra quello che puoi fare tra la libertà e il non rischio dell'impresa che è quella via di mezzo che non è da sottovalutare ti porta problemi preoccupazioni stress esatto la vendita infatti molte volte penso che tutti quanti l'abbiamo pensato qua dentro ah cavolo vorrei fare il venditore basta perché non hai responsabilità non hai spese comunque e hai la libertà di poter fare nel limite del possibile nel limite del lavoro ovviamente quello che vuoi lavorare dove vuoi però portate a casa comunque bei numeri quindi sicuramente è quel connubio perfetto assolutamente io ogni tanto ci scherzo con lui ci faccio degli esempi dove dico cazzo io sono partito con il network ok? ma aver avuto anche un'idea perché io ho fatto per 18 mesi il commerciale con un'azienda qua di Milano però facevo il commerciale fisico cioè l'avere avuto un'azienda dove mi dicevano io ti do i leads ti faccio io il marketing ti do io le cose e io devo solo stare a casa perché in realtà vendevo già facendo network eri già abituato a farle chiamate a farle zoom a farle cose cazzo ma una roba di gente mi avrebbe cambiato nettamente avrebbe accelerato tanto di più tante dinamiche proprio perché mancava l'informazione ancora oggi siamo abbastanza indietro sotto tante aziende poi noi lo vediamo che ci lavoriamo con le PMI però effettivamente l'idea ancora un po' parli con una persona che ci lizza non sa che cosa sono come se fosse utopia ecco quindi quindi sì secondo me ecco si sposa come una professione che si sposa e concilia l'esigenza dell'essere umano migliori con il fatto che puoi essere abbastanza libero è quello che però poi si torna a un discorso che il fatto che tu hai poi troppo tempo libero poi devi imparare delle competenze di gestione del tempo disciplina focus poi si cade diciamo anche prima per scalare arrivare al venditore top level il tempo libero devi ottimizzare in ok come miglioro quelli che sono i miei risultati miei aziendali quant'altro quindi sì tempo libero ottimizzato anche nel modo giusto sì perché poi sanno veramente diventa poi ecco alla fine il venditore è l'atleta cioè secondo me è l'atleta per eccellenza cioè deve dormire bene riposarsi avere anche dei giorni nella settimana dove magari mi ricarico le energie oggi non vendo perché mi serve per ricaricare le energie oggi nel senso so che sono focalizzato magari dico perché poi magari uno dice la domenica eccetera può essere la domenica può essere il sabato può essere il lunedì che uno faccia quello che vuole però il concetto è devo avere il tempo per me devo avere il tempo per riposarmi mangiare bene stare bene allenarmi stare energico perché alla fine la vendita è una cosa molto anche oltre alle competenze eccetera la tua energia la tua attitudine che vai a portare ti consuma anche energie fai una trattativa da 45 minuti un'ora non sei fresco fresco alla fine quindi sicuramente se hai energie da vendere è molto molto meglio e poi cioè devi avere esatto mentalità sempre cazzo cioè dalla prima chiamata all'ultima tu devi essere sempre al 100% non è che puoi dire no vabbè l'ultima della giornata te la faccio no perché la vendita ecco ti dà tanto ma non ti regala niente da quel punto di vista poi anche una competenza importante da persona che gestisce un team vendita tu padre che lo sai benissimo è proprio quella di capire come mantenere sempre up i venditori perché se un venditore ci demotiva se va in burnout e tutto quanto ovviamente non performa l'azienda ne risente e tutto quanto quindi anche quelli sono competenze che se puoi diventare un venditore top devi imparare assolutamente sì stavo un attimo sorridendo su quello che prima ha detto Alberto del discorso delle competenze perché l'ho raccontato un po' anche nel podcast che ho fatto io insieme a lui venendo da un lavoro prettamente fisico da dipendente dove dovevo timbrare il cartellino quando ho iniziato a lavorare da casa che ho iniziato a lavorare con lui i primi mesi full focus ok cioè proprio i primi due mesi dovevi stare particolarmente attento a quello che dovevi fare quindi proprio eri un vero e proprio atleta dopo due o tre mesi non ti rendi più conto di quello che stai facendo perché comunque magari arrivano di bei compensi dai tutto per scontato dai tutto in automatico ed è lì che crolla ok il tutto non so se vi sia successo anche a voi io riscontro gestendo comunque anche poi tante figure per quanto riguarda l'ambito della vendita che ci sono veramente tante figure che partono bene iniziano a fare i primi fatturati appena sentono questa cosa sembra che sia tutto in automatico ed è lì che poi iniziano ad andare in crash quindi collegandomi un po' al discorso che hai fatto te per scontato esatto per i risultati la libertà cavolo oggettivamente nel 2023 lavorare dove quando vuoi portate a casa dei bei numeri non è scontato io credo e lo dico sempre ma in maniera molto onesta sia la più grande ricchezza no? perché io credo che poi il compenso economico sia anche dovuto alla bravura di quello che fai come lo fai però fondamentalmente io credo che anche solo lavorare da dove vuoi da casa da una spiaggia da un ufficio se vuoi andare in ufficio e tutto quanto sia quella la vera ricchezza e ripeto facendo un lavoro da dipendente dove dovevo dipendere da un cartellino per me questa cosa qua ha stravolto veramente la vita a 360 gradi quindi l'opportunità che state dando poi a tutte queste persone e noi poi come aziende ne abbiamo bisogno o qualsiasi azienda necessita poi del reparto vendita perché fondamentalmente anche quello che facciamo noi ha a che vedere con devi crearti poi una rete vendita perché sennò il prodotto non lo porti nel mercato con questo non deve essere un qualcosa contro il marketing e tutto sono proprio delle cose collegate esatto tanto importanza alla vendita quanto al marketing però se si passa la palla poi fatta bene la persona che ti porterà avanti la scalabilità dell'azienda e poi la figura del venditore perché sennò cosa fai l'imprenditore o il manager che continua a vendere sempre non potrai mai andare da nessuna parte poi arrivi a un gap esatto e poi questo albito lo sai molto bene perché in primis sei stata la persona che ha fondato un po' queste idee qua vabbè ragazzi adesso parlando seriamente cioè cosa c'è di bello a Tenerife oltre che a non pagare le tasse scherzando logicamente battuta battuta no perché allora tantissime persone quelli che noi chiamiamo guru voi sapete che io scherzo su guru roba siete i primi a sapere che non vi reputo dei guru ma delle persone realmente competenti su quello che fate però vabbè tanti ragazzi che scappano dall'Italia via tutti via roba magari anche a noi anche te soprattutto albi sommerso di domande ma perché non vai via dall'Italia no tutto quanto quindi magari anche voi poi parti te e poi la domanda la faccio anche a loro cosa che vi spinge ad andare via subito dall'Italia roba cioè c'è una filosofia per quanto riguarda anche non lo so la mentalità la tranquillità e tutto oppure anche collegato a qualcosa non lo so questo è un po' il ragionamento di cosa ci avete trovato la decisione di dire ok portiamo tutto di là andiamo via vai tu Tommy vai beh allora sicuramente come dicevo all'inizio noi abbiamo avuto la nostra prima esperienza con Atenerife cioè noi abbiamo lanciato il business a Atenerife e lì non ci si è acceso una lampadina però abbiamo apprezzato comunque la situazione abbiamo poi proseguito l'attività in Italia abbiamo continuato poi a fare business in Italia arrivati a un certo punto abbiamo capito che forse non stavamo sfruttando l'opportunità che per noi era quello che volevamo realmente fare perché poi noi facciamo business anche perché ci piace vivere in un certo modo fare determinate cose all'interno del nostro tempo libero vivere magari in un posto dove c'è il mare e così via e quindi poi sentivamo che non stavamo sfruttando appieno le potenzialità del business per fare la vita che volevamo e andando a fare qualche vacanza qua e là abbiamo capito cavolo proviamo facciamo questa esperienza proviamo visto che ora magari non abbiamo chissà quale responsabilità che ci lega al territorio italiano a andare fuori e sicuramente è stata una scelta interessante sì diciamo che lo diceva Tommy tra 15 anni con famiglia figli e quant'altro è una cosa molto più complessa ora sono molto più tranquillo nel dire ok ho la mia ragazza sì andiamo a Tenerife facciamo un po' di anni vediamo lungo termine cosa vogliamo fare però nel frattempo non mi precludo una possibilità di cui magari potrei pentirmene in futuro ecco diciamo che sicuramente non l'abbiamo fatto unicamente per le tasse è sicuramente un incentivo poco ma sicuro l'avessimo fatto unicamente per le tasse saremmo andati a Dubai come tutte quante quelle persone però in primis reincarna proprio l'ossidità di vita che volevamo avere nel breve termine quindi avere salite tutto l'anno avere il mare poter surfare come dicevamo anche prima tutto quanto e poi ovviamente anche una rivoluzione fiscale che male non fa mai ecco secondo me avete toccato i punti corretti nel senso che la valutazione da fare quando la fai siccome è prettamente solo economica o veramente tu dici io faccio sempre il ragionamento e dici guarda se lo stesso lavoro lo facessi cazzo non so a Dubai lo facessi da un'altra parte allora dici vabbè mi ritrovo magari 500.000 euro in più in tasca allora dico vabbè se 500.000 euro in più all'anno allora probabilmente magari ha un senso però secondo me dovrebbe essere il trasferimento una cosa vista a 360 gradi in primis comprendendo esattamente che tipo di stile di vita vuoi vivere io per esempio sono super attento all'alimentazione e le cose quindi a me piace mangiare bene stare in un posto dove io so che ovunque vado in qualche modo quindi comunque è brutto da dire da questo punto di vista però cazzo noi siamo veramente trattati bene in Italia e forse noi ce ne rendiamo conto quando andiamo all'estero ma non perché siamo cioè io non sono uno patriota cioè da questo punto di vista però è legato al fatto che guarda anche nel peggior ristorante però anche se vai nel posto mangi comunque mi capita adesso tra una settimana sarò di nuovo in Inghilterra da Robbins però il concetto è che vai per esempio a Londra mangi ma cioè per mangiare bene o spendi delle cifre astronomiche e sinceramente per mangiare una roba che per noi è la normalità e devo spendere a me da fastidio ok perché un conto dice ok spendo bene in un ristorante italiano ma godo quando mangio ok ma se no cazzo no e siccome poi è proprio lo stile di vita perché dopo che stai un anno in un posto in cui poi però alla fine ti rendi conto che hai fatto una scelta prettamente solo economica cazzo non è così che c'è a 360 gradi tu devi colmare diciamo le tue esigenze quindi secondo me è corretto il fatto di dire guarda ci piacciono stile di vita delle canare tenerife ci piace ok quello secondo me è il ragionamento giusto se lo faccio solo per dire sì soldi poi forse poi soldi sono un mezzo per un fine in ogni ambito quindi se mi trasferisco per pagare meno tasse però non sono felice esatto e poi c'è anche il tema legato se vogliamo prendere il tema dei venditori che in realtà volendo in Italia puoi comunque anche stare bene pagando un 20-25% infatti questa cosa qua che hai detto è importantissima perché noi abbiamo perso il conto dei venditori che magari iniziano a guadagnare bene magari 5-6 mila euro al mese comunque a farsi delle belle cifre e subito parte l'impulso ok vado a Dubai devo cambiare la residenza e magari non prendono in considerazione neanche il paese dove vogliono vivere ma il paese che hanno visto che c'è la tassazione bassa e così via cavolo con calma innanzitutto l'Italia non ti uccide se fai delle cifre comunque di questo tipo è assolutamente fattibile stare in Italia e poi prenditi il tempo per capire dove vuoi vivere dove vuoi stare poi la decisione delle tasse può essere senza anche perché e finisco questo argomento se per ipotizzare che sono un venditore che guadagno 8 mila euro al mese ok e pago 2 mila euro al mese di tasse ok per dire se ma per magari recuperare quei 2 mila poi in realtà vado in un paese dove magari sottoperformo non faccio più quei numeri anche comunque un trasferimento non è una cosa semplice c'è comunque una roba che impatta sulle performance poi magari non è effettivamente la soluzione cioè bisogna pesare sempre tutte le cose ma poi anche trasferirsi non è gratis cioè avere una struttura all'estero un affitto tutto quanto all'estero cioè sono cose che ovviamente si risparmio 2 mila euro al mese di tasse però mi si alza di 1500 euro al mese dello stile di vita ok ne sta valendo la pena effettivamente non lo so chiaro cos'è Alberto che ti spinge a tenere le tue aziende in Italia? sono un po' masochista mi piace pagare le tasse no vabbè a parte gli scherzi c'è sicuramente un discorso più ampio noi oggi comunque abbiamo con anche Sales Process dei ragionamenti anche fisici da dover chiaramente stare qua essere presenti lavorare con gli imprenditori comunque fare B2B in Italia c'è bisogno di una società italiana c'è bisogno di una presenza perché comunque volenti o nolenti siamo ancora un po' gli imprenditori del classica stretta di mano che se io non c'è capito non ti conosco ma se sei all'estero tutte queste cose qui dove comunque è una cosa che ci teniamo e poi sinceramente ad oggi non lo vedo come l'unico scoglio cioè io sono uno da mi piace giocare a tennis mangiare bene e poi fondamentalmente non ho altri hobby particolari infatti tutti i giorni sono sul pezzo sul lavoro quindi una volta che vengono colmate quelle mie dinamiche non ho un'esigenza particolare poi come faccio sempre esempio se mi rendo conto che l'unico scoglio per la crescita può essere un tema di tasse probabilmente farò delle valutazioni troverò magari una struttura fiscale che possa agevolare la crescita poi di tutto ecco delle aziende e quant'altro però ci sono un sacco di imprenditori che fanno tanti migliori in più di tutti noi che sono in Italia quindi vuol dire che non è lo scoglio che ci impedisce di crescere la tassazione esatto c'è un discorso un po' più ampio quando ti quote in borsa a Milano non è che puoi andare tanto più lontano 2024 scherzano dai c'è un bel obiettivo c'è un bel obiettivo ci siamo compromessi ma l'abbiamo leggermente posticipato di qualche di qualche mese però sappiamo che quella è la direzione comunque è una cosa è un bel obiettivo esatto quindi ci sono tutte le testimonianze siamo compromessi dobbiamo farlo quindi per forza assolutamente andiamo a sbocciare davanti a piazza chiaro chiaro ci metteremo poi tutti davanti alla borsa campanelline e via allora volevo toccare un tema secondo me molto interessante per quanto riguarda la vendita quindi entriamo un po' nel clou dell'argomento fondamentale di oggi difficoltà no? perché parliamo tutti di risultati successo soldi bello ok il back-end il dietro delle quinte poi non lo vede mai nessuno no? io lo dico a me è capitato più volte cioè i periodi di burnout i periodi di difficoltà problemi familiari che poi magari a volte possono anche toglierti il focus e quindi lì capisci quanto aumentare la disciplina quanto diventare bravo poi sul lavoro no? quello è quello che sono tutte dinamiche che poi ti permettono di cambiare veramente la mentalità anche su quello che fai no? sul business e come soprattutto lo fai quindi avete fatto questa crescita esponenziale ma anche prima proprio dell'azienda quindi non vi parlo solo lato imprenditoriale oggi ma vi parlo venditori ok? periodi di difficoltà se li avete avuti perché e come li avete vissuti e superati ok? perché io lo vedo no? costantemente la maggior parte dei venditori magari ha delle difficoltà a superare dei scogli e quindi la domanda che si fa è sto facendo bene? è il lavoro che fa per me? ancora tanti ragazzi mi scrivono anche a me sui social oggi ma Patrick te come lo vedi il lavoro del venditore ma secondo te è una posizione che potrà andare avanti nel lungo periodo e allora io provo un attimo a impersonificarmi sulla mente della persona e dico ma scusami qua abbiamo dei paradigmi che vivono proprio con delle ansie con delle cose no? e quindi smascheriamo un po' questa cosa le difficoltà come tutti i lavori ma soprattutto magari proprio in questo ambito se le avete avute come le avete poi superate no? magari partita SM poi anche Tommaso insomma la tua esperienza io ti dico una delle principali difficoltà che ho avuto io in ambito sia vendita ma proprio in ambito di disallinearmi da quello che erano i binari per cui ero preimpostato io facevo ingegneria e ho lasciato l'università per appunto fare quello che sto facendo oggi quindi la difficoltà più grande che ho avuto io è a livello sociale quindi molto un impatto in cui shitstorm a destra a sinistra per il fatto che stai lasciando università amici parenti famiglia le scelte le approvate all'inizio oppure no? dopo anni sicuramente sì all'inizio ovviamente no i miei genitori ovviamente fortemente ammiratori del percorso accademico università ingegneria e quant'altro laurea la laurea era l'obiettivo numero uno al mondo quindi lasciare la seconda nota di ingegneria all'università non ha fatto piacere a nessuno quindi questo sicuramente l'ho vissuto negativamente a livello sociale e mi rendo conto che poi ho dovuto lavorarci anche in primis per poter crearmi una consapevolezza del fatto che erano solamente binari creati da paradigmi credenze della società fondamentalmente che io non avesse nessun obbligo di seguire quei binari e questo è una cosa che ci sono venuti dei mesi per avere questa consapevolezza che una volta che l'ho acquisita ho fatto sicuramente un upgrade molto 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 importante certo a livello amicizie cioè tutti credevano in quello che stavi dicendo in quello che stavi ponderando oppure l'uno per cento l'uno per cento io fortunatamente ho avuto la fortuna come penso anche per Tommy noi eravamo prima di essere soci amici quindi il fatto di essere sempre in due nei primi business nei primi fallimenti con la vendita con l'azienda e quant'altro ci ha aiutato molto a me personalmente penso molto anche a lui a riuscire a superare questi scogli amicizie perse io ne ho avute sicuramente diverse compagni di università che mandavano a quel paese perché ma cosa stai facendo l'online una truffa tutto quanto quindi a livello sociale è stato secondo me l'elemento più difficoltoso per me e penso vedendo un pochettino anche i nostri studenti che sia anche un elemento per molte persone non facile da affrontare l'acquisire consapevolezza che tu non hai obblighi da altre persone non devi fare quello che vogliono i tuoi perché lo vogliono i tuoi ma devi fare quello che vuoi tu perché è la tua vita non è degli altri e questo secondo me è una difficoltà che una volta che la superi veramente non hai limiti ok cose importanti quelle che hai detto ma come le hai superate cioè solo con la tua mentalità ti sei fatto aiutare cioè nel senso la voglia di cioè avevi un obiettivo com'è che sei riuscito a superare tutte queste cose sicuramente il primissimo step che ho fatto è avere una consapevolezza di quello che io volevo perché il fatto che ho preso il diploma ho fatto ingegneria lo facevo per inerzia non perché io volevo effettivamente quello dalla mia vita ma perché le circostanze esterne mi dicevano che era la cosa giusta da fare quindi focalizzarmi sul mio risultato sul mio obiettivo su quello che volevo mi ha aiutato a capire che tutto quello che stava intorno fondamentalmente non contava nulla quindi focalizzarmi sull'obiettivo formarmi inevitabilmente quindi corsi di miglioramento personale crescita personale di mindset per capire quanto sia importante in sicuro un obiettivo in un determinato modo mi hanno letteralmente cambiato la vita quindi ci sono due cose qua top bello te Tommaso stessa cosa sono d'accordo il fatto di sicuramente come abbiamo detto fino adesso la vendita è un'attività meritocratica quindi quando le cose vanno bene fantastico vuol dire che siamo premiati per i risultati che portiamo però essendo meritocratica quando magari abbiamo degli sbatti personali abbiamo dei problemi in famiglia abbiamo magari le persone che non credono in noi questo magari si riflette sui risultati e lì dobbiamo essere noi che gestiamo la cosa che risolviamo il problema non c'è lo stipendio fisso che arriva ogni mese che ti dice vai tranquillo poi ricevi comunque questa cosa qua e quindi c'è c'è da risolvere il problema da gestirlo e personalmente entrare nel meccanismo che dicevamo prima il fatto che la vendita è molto è molto vicina al mondo dello sport dell'allenamento quindi il fatto che si sbaglia ci sono dei problemi riceveremo dei no riceveremo tanti no se ti approcci alla vendita pensando di non ricevere dei no di scansare quelle cose no perché il conversion rate del 100% non c'era nessuno i no arrivano i momenti negativi ci sono e quindi devi essere pronto a analizzare migliorare e continuare è un po' è un po' come un atleta che pensa di approcciare una gara e vincere tutte le gare è impossibile cioè tu sa che vincerai arriverai quinto arriverai decimo arriverai terzo cioè ragazzi abbiamo qua un maratoneta comunque a dicembre ha corso la maratona ah grande sì e i principi sono gli stessi i principi sono i medesimi non è che uno inizia boom e corre la maratona c'è bisogno di allenarsi c'è bisogno di aspetta a fare la maratona mi interessa come hai approcciato l'ho approcciato con lo stesso principio io non sono mai stato un corridore ho iniziato facendo i miei 3-4 km in maniera anche molto difficoltosa poi giorno dopo giorno inizialmente ho iniziato da solo quindi correndo da solo anche così improvvisando poi ho capito che c'era bisogno di un metodo di un approccio mi sono iniziato a informare ho capito che per prepararsi alla maratona ad esempio serve un piano un piano di allenamento dove devi fare un tot di chilometri prima devi fare un tot di chilometri in preparazione e così via e quindi ho visto che è una cosa molto metodica e lì ho visto che dopo 6 mesi poi sono riuscito a correre la maratona la cosa molto interessante che ho visto è che nel maratone non lo sapevo ma c'è questa cosa dove ci sono non so come si chiamano sono delle persone che hanno il compito di correre a una certa velocità quindi c'è tipo un gruppo di persone che magari corre la maratona e andando a quel ritmo sa che finirà la maratona 4 ore 4 ore e 30 tu stai attaccato a loro e te se segui loro sai che finirà la maratona a quel punto è stato fantastico perché quello è proprio un mentore al 100% tu lo segui ti motiva durante e lì capisci veramente l'importanza di avere qualcuno che ti dà l'esempio che ti segue con cui fare il percorso avevo già sentito questa cosa qua più o meno è 6 mesi la preparazione per arrivare poi a fare una maratona ecco io non l'ho mai fatta mi sono fermato alla mezza nel senso i 21 chilometri di corsa però ha tutti gli effetti però ecco sono sempre stato un po' interessato a capire come farla ho sempre paura di farmi del male tipo le ginocchia le tendini perché poi è logorante da quel punto di vista è devastante io ho visto i 21 chilometri la mezza maratona è anche piacevole la maratona intera arrivi tipo al trentesimo chilometro cioè il mudo dei 30 chilometri dove dici ok ora devo mi mancano ancora 12 chilometri un'ora e mezzo di corsa una roba del genere è impegnativo è impegnativo quando faccio tipo i miei 10 chilometri che tipo dico che magari non so già dopo 8 sei un po' stanco dici figa ne hai due e ti sembrano già mi immagino 12 quando sei morto quindi esatto esatto e lì un consiglio bellissimo che ha dato appunto questa persona che stava correndo insieme a me tipo ok ora ti mancano 12 chilometri ti pensa ti sarà capitato di fare una corsetta a 12 chilometri ecco ora devi iniziare quel percorso esci da casa e fai l'esatto percorso di 10-12 chilometri che fai di solito in testa immaginati quello perché alla fine il concetto è lo stesso non c'hai di solito i 100 chilometri prima magari però è pazzesco come è tutto alla fine è ciò che vedi nella tua mente che alla fine fa la differenza perché lì non è più il fisico cioè nessuno lì ha il fisico per farne 42 perché non è che dici beh ho corso per 6 mesi 42 chilometri insomma non li hai mai magari corsi prima di quel momento lì quindi è proprio una roba che te l'hai solo immaginata è pazzesco è pazzesco ragazzi la mente ha veramente un potere allucinante si è canalizzato nel modo giusto stavo dicendo la stessa cosa cioè nel senso se mi avete letto nel pensiero perché comunque lo sport ha comune un po' ecco soprattutto la disciplina del venditore io devo dire la verità nella mia vita non sono mai stato un gran sportivo cioè giocavo a calcio perché giocavano i miei amici tennis sracchettavo perché così facevo i miei amici ma non sono mai stato un appassionato dello sport se non anni indietro un po' il bodybuilding da ragazzino ma perché anche lì non con una passione dedita a questa cosa volevi rimorchiare dirlo si chiaro ha 18 anni fisico chiaramente però partisco quando ho iniziato poi a conoscere anche lo sport del mindset di quindi quanto puoi far diventare elastica la mentalità la mente e su come vedi le cose lo sport mi aiuta cioè tutt'oggi per carità mi alleno a casa cioè i miei strumentini e tutto quanto ma tre volte alla settimana che abbia voglia che non abbia voglia mi metto lì mi ci metto sotto e questo mi aiuta poi a performare bene anche durante la giornata ok perché magari io mi alleno particolarmente lunedì che per me è una cosa estremamente difficile perché magari poi la domenica sera ti rilassi un po' vai fuori con gli amici bevi due cose in più e tutto quanto quindi quando ti svegli lunedì mattina è veramente tragica non lo so però almeno per me è così e quindi la prima cosa che faccio è duro lavoro mi alleno mi spacco e poi da lì cioè nel senso prende forma poi anche tutta la giornata questo poi particolarmente mi ha anche aiutato ma credo anche voi ma anche te poi fondamentalmente a capire quanto qui dentro sia importante anche focalizzare l'obiettivo e dire ok vado contro tutti vado contro tutte le persone che mi hanno dato contro e non ho paura di nulla e vado a prendermi insomma quello per cui ho deciso di impegnarmi questo era un po' questa è una cosa bellissima e potentissima in cui molte persone non se ne rendono ancora conto che realmente se una cosa la vedi nella tua testa qualunque essa sia può essere realizzata e ci sono un sacco di persone che si focalizzano sul lamentarsi su quelli che sono i problemi e quant'altro esatto e quello che succede è che i problemi si ingrandiscono ovviamente e cazzi lo dico sempre io anche quando recluto delle nuove figure magari collaboratori e tutti io non voglio persone che sono portatori di problemi portatemi delle soluzioni cioè nel senso anche se non fa parte della vostra mansione e tutto quanto ma cerchiamo di trovare soluzioni ai problemi la maggior parte delle persone ti porta a problemi ok quindi questo è un po' il blocco mentale di tanta gente ok lo scoglio di questa cosa qua andando a sottovalutare il fatto che poi il venditore o un collaboratore in generale deve portare soluzioni cioè se io ti inserisco in azienda e mi porti più problemi di quelli che c'erano prima è un problema è bravo esatto esatto vabbè abbiamo parlato di sport te adesso che sei uno sportivo aspirante imprenditore esatto non so parliamo un po' di impresa qualcosa del genere sì no vabbè no voglio aggiungere una cosa finale su questo aspetto cioè quando capisci come la mente funziona tu riesci in realtà a andare contro al modello che la mente ti impone cioè la mente ti impone il fatto che ovviamente non ti vuole far fare quello che diceva lui no è il mattino lunedì mattina minchia la roba più però è proprio quando si applica quel modello lì che sta entrando in quel comportamento di non volerlo fare che allora lì capendo come ragiona la mente lo inverti ed è così che poi inizi piano piano a ottenere le cose può essere magari l'esempio della chiamata che non vuoi fare dell'affrontare quella situazione ma è proprio lì quando vai a ribaltare quel modello che allora puoi iniziare a risolvere i problemi cresci migliori superi le sfide perché tanto cioè di quello parliamo e vedi tutto quanto in maniera diversa dalla Z proprio sono d'accordo mi parlavi di diciamo di imprese voi avete raccontato di come siete partiti e io credo che in realtà anche il mercato vi abbia detto come migliorare poi la vostra azienda questo secondo me è un aspetto un aspetto importante io faccio l'esempio sempre di Airbnb noi non lo conosciamo Airbnb oggi chiaramente è la piattaforma ok di effetti brevi dove uno può prendersi tutte però in realtà Airbnb è nata come loro creavano materassini materassini gonfiabili Air infatti capito? sapevo esatto e poi è il mercato che gli ha detto come migliorare il loro prodotto e dire guarda che quello non è il tuo business ok e mettevano i materassini gonfiabili per poi far dormire le persone nelle varie case c'era chi dava le stanze libere e tu avevi il materassino di Airbnb però non era quello tu dovevi l'immobile prendere capito? questo era il concetto e come avete voi migliorato il vostro prodotto e servizio nella vendita per far ottenere più risultati ai clienti eccetera cioè quale magari era stata la trasformazione che avete adottato negli anni per migliorare il prodotto noi siamo partiti sul mercato diversi anni fa come ufficialmente il primo percorso di affiancamento in ottica vendita era l'era dei videocorsi e tutto quanto veramente la vendita essendo un'abilità molto anche pratica logicamente come sapete benissimo serve quel supporto quel coach che ti affianca one to one per dubbi domande teoriche ma anche per esercitazioni pratiche quindi noi siamo partiti direttamente con questo ovviamente facendo direttamente noi le consulenze i vari roleplay e tutto quanto poi ingrandendo quello che è il team affidare ogni singolo studente un coach per poterlo supportare per poter fare roleplay simulazioni e tutto il resto così da poter fornire anche all'azienda finale un venditore che realmente sapesse fare tutto quello che era necessario quindi sicuramente questo è stato il nostro più grande upgrade a livello formativo di prodotto che effettivamente vendevamo non c'è nessuno che vende un qualcosa che ti affianca la tua vendita dalla A alla Z e ti garantisce quello che noi facciamo con contratto ti garantisce un inserimento in un'azienda alla fine del percorso quindi da un insieme di garanzie sia in termini di formazione quindi in formazione di qualità noi ci formiamo comunque come voi o logicamente costantemente e gli aggiornamenti li riversiamo nel nostro percorso quindi in termini di formazione e in formazione di qualità in termini di supporto sempre più qualitativo con i coach con il roleplay con delle masterclass sia consulenti private che di gruppo e fino a garantire quello che fondamentalmente non ti garantisce neanche il sistema accademico universitario ad oggi ovvero la collaborazione finale quindi questo secondo me è stato il cerchio che si è chiuso definitivamente all'interno del nostro percorso che in realtà poi non si chiuderà mai perché le evoluzioni gli apoglietti ci saranno sempre però il prodotto soddisfacente al 100% è stato proprio con questa cosa qua finale ecco io dico sempre anche e soprattutto per le persone che magari non hanno uno scopo nella vita non sanno che tipo di lavoro fare eccetera se del 100 sia su 100 persone che vanno all'università 4 trovano lavoro io dico ok ma aspetta un attimo se alla fine voglio un lavoro e voglio un qualcosa che mi produca dei soldi devo capire dove si muovono i soldi nel mercato e quindi dire ok cos'è che oggi paga il mercato che figure ricerca e vado e dico ok imparo la vendita telefonica come magari tante altre abilità ben pagate che oggi comunque sono richieste che comunque ruotano sempre abbastanza intorno al marketing e alle vendite perché c'è tanta richiesta da questo punto di vista ecco quindi sicuramente anche cazzo ti garantisco questa cosa qua ovviamente è una leva poi quello che secondo me è molto importante è anche come diventare un venditore capire le dinamiche dietro a una vendita a livello psicologico a livello di processo e quant'altro ti costruisce proprio come persona con un valore diverso sul mercato cioè il tuo valore sul mercato cambia radicalmente una volta che sai quelli che sono i processi decisionali sai come si muove all'interno di di una realtà aziendale tu come collaboratore o un potenziale cliente come prendere decisioni che attraverso quali flow passa prima di acquistare o meno cavolo il tuo valore sul mercato e cresce esponenzialmente proprio esatto e secondo me una delle cose che un'abilità fondamentale che il venditore deve avere che è un po' ciò che noi ci siamo sempre messi come step anche da trovare devono essere persone che va bene che abbiano imparato la vendita ma loro devono avere nell'indole l'abilità di formarsi regolarmente come lavarsi i denti cioè io dico sempre cioè deve essere una roba dove tu ce l'hai dentro non è che adesso che hai imparato la schiz ormai sei tutto te e basta soprattutto quando poi magari ci sono anche i risultati di mezzo questo deve essere fatto prima perché poi quando i risultati diventi quasi troppo sicuro di te stesso quindi poi ti vieni segato capito come pensi di saper le cose è finita quindi sempre avere quest'ottica di regolare formazione eccetera che magari è specifica nella vendita perché voglio migliorare certi aspetti certi approcci la comunicazione il tono tutta una serie di cose che hanno a che fare chiaramente con la vendita però poi magari anche legato al più mi focalizzo più sulla mentalità mi focalizzo più a gestire meglio il mio tempo che poi impattano sul lavoro certo sì sì ma infatti la domanda è questa se noi che formiamo venditori ci formiamo costantemente perché i venditori non dovrebbero formarsi costantemente sarebbe una un'incoerenza gigante proprio formarsi con l'obiettivo di diventare quel venditore o quel libro professionista che sul mercato vale di più è ovvio che un'azienda disposta a pagare molto di più un venditore che è organizzato saggio e siri lead saggio e siri crm saggio e siri il suo tempo sa dare molto più valore piuttosto che un venditore che vende e basta vince 10 a 1 logicamente quindi cresce proprio come valore sul mercato sulla base di quello che realmente vorrebbe un'azienda e vorresti tu per poter incrementare i tuoi risultati quello fa la differenza anche perché più che il mercato va avanti più c'è sofisticazione di ogni cosa cioè la prima la vendita telefonica sembrava quasi che fosse tutta una giungla adesso piano piano inizia ad essere sempre più qualitativa perché chiaramente cresce il mercato voglio parlare un po' di guadagni dei venditori cioè il venditore che guadagna secondo voi dalla vostra esperienza quanti sono i soldi che dovrebbe fare mensilmente per essere un venditore veramente dici cazzo questo qua è tanta roba che è abbastanza relativa perché poi dipende sempre cosa vendi e quant'altro però ecco parliamo un po' lato economico magari anche con Patrick che ne vede eccetera dall'esperienza che abbiamo visto noi sulle persone poi che frequentano i nostri percorsi come hai detto te è relativa quindi c'è la persona che dice cavolo io guadagno 2000 euro lavorando da casa prima dovevo magari facevo il venditore dovevo però farmi tutta Milano avevo le spese auto e compagnia bella è magari molto soddisfacente così come persone magari possono avere ambizione di guadagnare 5, 6, 7 mila euro al mese dipende molto da persona a persona quello che abbiamo visto noi per le persone che frequentano i nostri percorsi sono magari l'ambizione di guadagnare appunto questi 5, 10, 15 mila euro al mese che sono risultati assolutamente fattibili chiaramente più aumenta la cifra più aumenterà il livello di competenze che dobbiamo avere quanto siamo bravi quanto risolviamo dei problemi per l'azienda però sì diciamo che sono successi diversi studenti nostri che hanno raggiunto anche 12, 13, 14 mila euro al mese come guadagno in termini di vendita un buon guadagno un guadagno medio può essere tranquillamente tra i 5, 6 mila euro al mese tranquillamente sicuramente molto più raggiungibile e la cosa bella appunto come diceva anche Tommy prima e come dicevamo anche noi che sì sicuramente la vendita è un'abilità che lega anche se meno il tuo tempo ai tuoi guadagni ok non sei un dipendente pagato 10 euro l'ora però ovviamente se non chiami non usi il tuo tempo non fai soldi questo è logico però se utilizzi veramente qualitativamente questo tempo qua abbiamo visto i nostri studenti che avevano lavori full time realmente e hanno fatto mesi a chiamare un'ora e mezza in pausa pranzo e dopo le 18 potete essere accaduta veramente 3-4 mila euro al mese ok quindi se utilizzi qualitativamente quel tempo lì ovviamente non puoi farlo per 50 anni chiamare nelle pause pranzo e così via però in una fase embrionale può essere tranquillamente fatto con la qualità e la formazione giusta puoi fare veramente fare questi risultati che poi esatto non è scontato comunque guadagnare 100-200 euro all'ora cioè sembra stiamo passando comunque dal dire ok la media di cui si prendono in Italia sono 10-15 euro all'ora quando magari con una vendita dopo che sto a un'ora chiudo un pacchetto e mi porto a casa 100 euro di provvigioni non è la normalità cioè è anche da dar valore ai soldi per come perché sai spesso si ingigantisce sempre sulla cosa però ricordiamoci sempre da dove si parte come guadagno medio io facevo il croupier e facevo 6 euro l'ora quindi non è poco esatto ecco poi lascio la parola a Patrick secondo me un aspetto importante anche nella vendita è imparare a crearsi il guadagno stabile che piano piano è progressivo in una crescita perché poi alla fine tu con quei soldi lì ci devi vivere e ci devi campare e secondo me emotivamente distruggere il fatto di dire faccio un mese dove magari faccio 8 mila poi c'è un mese che faccio 2 poi c'è un mese che faccio c'è anche imparare a capire ok nell'azienda in cui mi trovo nel lavoro che faccio il mio guadagno c'è trovare qual è il lavoro che devo fare affinché io riesco ad avere una stabilità economica e poi è ciò che chiaramente serve a chiunque quello chiaro ma infatti lì i numeri alla fine fanno sempre da padrone quindi capire esattamente ok fare un'analisi io sono in grado di gestire in maniera qualitativa 5 6 7 lì da ogni singolo giorno di questi ho un conversion rate del 40% quindi porto a casa 7 persone 3 li porto a casa 25 giorni nei domenici che non lavoro quindi sono 75 persone che vengono chiuse ogni singolo mese anche ticket medio capire che questo qua deve essere il mio standard come aumento il mio standard come non lo diminuisco come creo questo effetto compound in cui parò dei pacchetti rateizzati che mi salderanno nei mesi dopo come mi creo questa stabilità nel lungo termine e anche lì ovviamente più è qualitativa la formazione e la mentalità in termini di miglioramento della persona più si chiara questa stabilità che non rimane piatta ma piano piano sale sempre no le rate vanno abolite comunque no io non voglio sentire un shot no got one shot 50k esatto io non voglio sentire il discorso rate se non ci sia qualche stabilità dietro o qualche istituto bancario che ci dà il subito se no le rate io non glieli insegno ai venditori abolite subito prima mi dice ma posso rateizzare no quindi poi poi vediamo tutto il resto al di là di questo no però torno al discorso che avete detto è vero guadagnare 15 12 13 però la stabilità perché il mese che faccio un lancio ne puoi fare anche 30.000 in un mese poi però dipende la stabilità di questo lavoro e magari tante persone poi questo non lo capiscono per tornare a quello che io vi ho detto prima tante persone mi scrivono ah ma te come lo vedi come lavoro cioè ragazzi è un lavoro è un lavoro a tutti gli effetti no cioè nel senso quindi persone che devono avvicinarsi poi a magari persone come voi che gli istruite gli date le basi tutto quanto e poi però gli date anche magari le competenze o li mettete in aziende come le nostre o come magari di tanti altri imprenditori che però comprendono la realtà di quello che c'è da fare io dico sempre i guadagni magici non ci sono da nessuna parte i soldi dal cielo non cado sarebbe bello esatto se trovate il metodo poi me lo dite anche ci chiamo tranquillamente esatto un qualcosa che voi parliamo proprio di lato vendita ok che vi sentite di dare in termini di consiglio ad un venditore cioè oltre al solite cose scontate ah ma fai la formazione no questo ormai lo sappiamo cioè nel senso sono un po' le basi di tutto ma un consiglio che magari ad una persona che si è avvicinata intanto a questo lavoro a questo percorso e tutto quanto che magari è un po' lì lì è un po' demotivata e tutto quanto cioè proprio uno o due consigli che magari dite stai attaccato a questa cosa cioè fai questo secondo me questo oppure quello che ha fatto il che ha determinato il vostro successo sia come venditori sia poi magari come imprenditori nell'ambito della formazione della vendita ti parlo ho fatto ieri mattino un'intervista con uno studente nostro che è entrato nel nostro percorso nel 2021 due anni fa ok e ha fatto i primi 6-7 mesi 8 mesi senza risultati è andato in burnout molto triste non otteneva risultati e quant'altro e dopo più di un anno del nostro percorso solitamente risultati arrivano molto prima però dopo un anno ancora aveva 0 risultati e nell'intervista appunto ieri me l'ha detto ho cambiato completamente mentalità ho iniziato a credere realmente nel processo e questo ragazzi fa la differenza tante persone magari entrano nel nostro percorso comunque fanno formazione si informano sul discorso della vendita su altri business e tutto quanto senza crederci a 360 se io voglio fare una cosa ma ci credo per un 20% non potrò mai farla e appunto questo Alessandro questo studente che ora ha chiuso giugno con 5200 euro di guadagno quant'altro e due anni fa è entrato nel percorso senza crederci e non puoi fare risultati così quindi prima cosa se fai qualcosa assicurati di crederci al 100% se così fosse allora sei nella strada giusta questa è la cosa più importante secondo me ottimo secondo te Tommy sicuramente la mentalità è la cosa numero uno se vogliamo entrare un po' più nel tecnico della vendita vedo che molte persone si concentrano poi sui principi della vendita ma quasi si staccano da quello che dovrebbe essere la naturalezza che poi ci deve essere all'interno di una trattativa di vendita si dimenticano che stanno parlando con degli esseri umani degli imprenditori dei privati persone che hanno un problema e che vogliono una soluzione e si legano troppo a magari ok come devo cosa devo dirgli cosa non devo dirgli che domande gli devo fare e quando ci si inalbera troppo con tutte queste dinamiche qua poi alla fine siamo dei robot che non creano nessun tipo di empatia di rapporto con la persona e poi non si conclude neanche una trattativa quindi cercare di essere naturali cercare di capire che stiamo parlando con un essere umano che è venuto da noi perché ha un problema e noi dobbiamo trovargli la soluzione migliore questo concetto qua secondo me è molto importante è il principale esatto e aggiungo anche massimo focus sull'ascoltare molti pensano che il venditore sia quello che parla tanto quello che interrompe il lead assolutamente pensare quello che sta zitto si mette in disparte e fa parlare fa tirare fuori i problemi al lead così può vendergli la soluzione quindi ascoltare tanto più ho informazioni sul potenziale cliente più so come aiutarlo se ho meno informazioni perché parlo io al posto suo non posso aiutarlo me lo dico sempre è un qualcosa che purtroppo le persone non lo capiscono e quando entrano nel mondo della vendita come hai detto te proprio percepiscono il dire ok devo andare a rompere le palle alla gente cazzo ma sto concetto qua ormai cioè veramente agli 80 sì esatto quando io lo dico ai miei ragazzi quando voi andrete a sostituire quel concetto del ti chiamo perché ti devo rompere le palle ma ti chiamo per capire che tipo di problematica o che tipo di esigenza hai e io ti do una mano cazzo la vendita diventa veramente aiutare il prossimo cioè nel senso io la vedo proprio anche sotto questo punto di vista qua è chiaro che poi il mezzo è il denaro c'è poco da fare ormai le informazioni si pagano ormai paghiamo anche l'aria che respiriamo quindi di cosa stiamo parlando cioè non è normale che ci sia il denaro di mezzo o una transizione di denaro però fondamentalmente se te lo cogli proprio nel dire io voglio ascoltarti mi esprimi certe problematiche e tutto io sono certo che con quello che offro ti do una mano ti aiuto a risolvere quella cosa lì cazzo è veramente aiuto il prossimo quindi fare uno switch di questi concetti mentali nell'ambito della testa di venditori insomma e non lasciarsi condizionare da paradigmi sul denaro perché si di mezzo c'è un darti una soluzione aiutarti con uno scambio di denaro che è una cosa normalissima ragazzi quando prendiamo le patatine o una coca cola c'è uno scambio di denaro vuol dire che il barista ci sta truffando o è un venditore che ci sta pushando è una cosa normalissima intervizziamo la normalità nello scambio di denaro assolutamente sì aspetta che sì no anche un aspetto importante è legato al fatto che se te sei un venditore e ti rendi conto che dall'altra parte hai una persona che ha un problema perché spesso le persone sono insicure non credono in se stesse hanno tante dinamiche dove non riescono a prendere decisioni ma te sai che ciò che stai facendo e ciò che stai vendendo è la soluzione al suo problema tu devi andare fino in fondo e spaccargli in senso positivo il cervello alla persona adesso che devi fargli cioè devi andare a concludere la vendita perché in realtà non vendendogli gli stai facendo il mare lo stai continuando a tenere in quella situazione quindi spesso anche il venditore deve avere il coraggio e le palle di andare fino in fondo con chiaramente il lead il cliente potenziale se io so che l'azienda con cui collaboro vende un prodotto un servizio di qualità che ha già aiutato altre persone altre aziende altre realtà cavolo e mi ritrovo davanti una persona che ha magari dei problemi simili se io non vado a vendere a questa persona se io lascio che magari mi faccio vendere la sua idea mi faccio vendere le sue scuse poi magari la situazione anzi sicuramente la situazione andrà a peggiorare quindi essere convinti del prodotto che vende l'azienda e andarlo a far trasmettere questa cosa al potenziale cliente se non ti vendo ti faccio un disservizio al 100% è sbaglio siccome è un'altra abilità che va approfondita per il venditore che perché ipotizziamo anche se sei una persona normale che magari dice ok io sono abituato a fare il lavoro dove prendo 1200 euro al mese 1300 euro al mese eccetera metto nella vendita mi impegno ottengo risultati e spesso e volentieri uno ottiene anche dei risultati che magari uno si ritrova ad avere a gestire magari delle somme di denaro che non è abituato perché se magari prima guadagnavo in un anno 15.000 euro magari nel giro di tre mesi faccio qui 15.000 euro ora no secondo me l'altro aspetto importante è comprendere come gestire poi quel denaro lì ok quindi magari dire ok visto che fino ad oggi hai vissuto e magari voi adesso non so qual è l'età media delle persone con cui vi interfacciate come studenti ecco 20-35 esatto 20-40 esatto e secondo me sei in una fase in cui magari non hai mai messo soldi da parte quindi secondo me il primo step è quello di dire cazzo mettiti da parte sei mesi di stile di vita cioè inizia a comprendere quanto costa vivere per te che può essere 1.000 euro al mese 2.000 euro al mese ok ipotizziamo inizi a dire ok 2.000 euro al mese me li metto via per sei mesi e inizia a crearmi quella sorta di cuscino ok che in un conto corrente dedicato eccetera e poi tutto il resto lo inizio magari a far lavorare in modo diverso magari l'uso anche la stessa formazione vuol dire far lavorare i soldi cioè quindi anche questo discorso qui meglio di così non si può bravissimo ok non rischio mai però questi sono temi che cazzo quando fai un lavoro dove comunque hai a che fare con insomma di denaro se poi non ragioni con questo tipo sputtani tutto cioè alla fine bruci tutti i soldi che magari cioè guadagnare 8.000 euro al mese come venditore può essere tanto come può essere poco se ti bruci tutto tutti i mesi capito perché fai serate mangi alla grande eccetera non ti metti a parte un cazzo non è che sei molto capito non è una roba molto sana se ne spendo 8 esatto ma anche noi in perimis quando abbiamo iniziato avevamo questa illusione cavolo ora quando iniziamo a guadagnare 4.000 euro al mese in due con la vendita telefonica andiamo là andiamo là facciamo quello poi ti rendi conto che è un po' diverso c'è bisogno di appunto avere una conoscenza sui soldi su come gestirli su come tenerne cuda assolutamente sì un'altra cosa che però io vedo che penalizza la crescita del venditore è che purtroppo loro si autosettano su quello che guadagnano e così non sviluppano più la capacità di scalabilità della cosa cioè faccio un'ipotesi se io vedo che ormai questo lavora con me da un anno e si è tarato sul fare 3-4.000 euro al mese perché gli do tot lead gli do tot cose tutto quanto lui ha capito quante ore lavorare al giorno ok fatalità non mi scala più resta fermo sempre a 3-4.000 euro anche se gli do più lead anche se gli do più cose quindi una delle cose delle abilità magari anche nostre brave perché voi comunque vi occupate proprio dell'ambito di formazione io gestisco e in primis comunque mi occupo di vendita è proprio fargli sviluppare l'abilità di metterli scomodi e quindi magari un po' quello che ha detto Alberto prima ti spiego intanto come vabbè all'inizio ti vuoi sputanare è normale dipende un po' poi da dove arrivi quindi magari se arrivi da non hai mai avuto niente tutto è chiaro che all'inizio ti toglie un po' di sfizi ma è giusto che sia così bravo esatto poi l'educazione sul denaro è la prima cosa io mi ricordo che quando avevo iniziato a fare un po' di soldi le prime cose che avevo fatto erano andato in banca e mi ero fatto quei bot come si chiamano quei pack che tipo se guadagnavo 5.000 4.500 mi li toglievano cazzo cioè in automatico no e quindi poi da lì mi sono trovato però una bozza di dire ok oggi se sto un anno senza lavorare non muoio cazzo cioè capito quello è un po' il discorso però le ripeto ecco proprio per i venditori e non so se magari l'avete riscontrato anche voi questa cosa qui è che si autosettano e purtroppo poi si annidano un po' no su queste cifre qua che comunque sono cifre importanti perché noi adesso stiamo parlando di 10.000 15.000 roba di qua di là cioè l'italiano medio senza nulla a togliere guadagna come ha detto lui prima 1.2005 cazzo quindi stiamo parlando di cose veramente interessanti a livello numerico no sono sicuramente numeri importanti e è una cosa che vedo assolutamente nei nostri studenti è una cosa che vedo anche all'interno dell'organico di un team a 360 quindi in realtà aziendale sì venditori ma banalmente anche il reparto copy i social media e quant'altro tutte le persone tendono a crearsi la bolla la classica comfort zone in cui ok sono abitato a lavorare 5 ore al giorno portare 200.000 di fatturato al mese all'azienda fine ok certo arrivo al 20 del mese che ho fatto 198.000 in 10 giorni ne faccio 2.000 è così no no ma i dati nostri anche cioè lo dicono poi no infatti è questo la sfida continua nel provare a non stabilizzare queste cose ok perché magari ci sono tantissime problematiche legate poi anche alla fatturazione magari fai bene i primi 10 giorni del mese a volte fai bene gli ultimi 10 però cazzo non lo so anche in primis come caratteristica che mi sono improntato io per carità poi il guadagno è un po' una conseguenza a come lavori no però tante volte ormai il mio cervello si è settato a dire devo spingere sempre di più anche per il risultato aziendale no quindi cercare un po' di slegare solo il proprio guadagno da quello che può essere anche un risultato obiettivo è questo che poi magari possa motivare la persona a dire cazzo devo spingere sempre di più no su questa cosa qua anche per rendersi conto che il guadagno aziendale è il mio guadagno più alto futuro esatto se l'azienda ha più budget anche per i mesi successivi mi arrivano più lead tutto quello che ne consegue quindi chiaro vuoi fare a te? no io volevo cambiare un attimo argomento quindi non so se poi te vuoi rimanere lì come avete vissuto mi ricordo un po' di tempo fa che magari anche ci eravamo sentiti su questa cosa ma poi sono cose che ci collegano un po' tutti avete fatto questa crescita con l'azienda e tutto quanto diventate un po' esposti anche a livello italiano e tutto quindi poi persone che magari attaccano quello che potrebbe essere il lavoro aziendale ma anche singolo di una persona io mi ricordo cazzo cioè quando avevo iniziato ad andare fuori un po' dagli schemi la gente me ne diceva di ogni colore no di tutto e di più ma dove vuoi andare trovati un lavoro vero sei uno sfigato cioè di tutto e di più quindi siete avete mai avuto attacchi soprattutto come li avete vissuti cioè i periodi di difficoltà giusto anche poi magari per dare un po' un'educazione su quest'ambito qua allora beh sicuramente ne abbiamo avuti mi ricordo ma in realtà neanche tanto tempo fa un annetto fa ho letto un messaggio in DM se ti becco questa ti rompo i denti ok così da nulla ok proprio subito alle maniere forti inizialmente sicuramente ci rimanevamo male nelle prime ad di Facebook anni fa o nei DM o nei commenti così via sono cose che ovviamente ti devono temperare devi interiorizzare col tempo i primi insulti sotto i commenti fanno un po' male a tutti è innegabile al giorno d'oggi onestamente col fatto che mi sono reso conto anche con la consapevolezza sia di me sia di quello che c'è intorno quindi persone che oggettivamente lo fanno non perché ce l'hanno con te ma perché sono insoddisfatte quindi io non ho una soddisfazione mia personale a livello personale lavorativo e tutto quanto cosa faccio? non penso a come migliorare me stesso ma penso a come buttare giù un altro assolutamente è la cosa più semplice più che altro è la cosa più semplice da fare è tosta lavorare su se stessi molto tosta e quindi nessuno lo fa e quindi una volta che ho interiorizzato queste cose qua al giorno d'oggi non me ne frega assolutamente nulla però sì innegabilmente all'inizio è una cosa che non mi faceva stare bene trovavi la risposta al commento per vincere te ma in realtà non puoi vincere con persone che mi ricordo all'inizio rispondevamo anche ai commenti no 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 ma infatti io mi ricordo anche quando facevo le prime ads con il network e tutto quanto che la gente come dite voi vi commentava sotto ve ne dava contro ma poi magari anche i vostri stessi compagni di classe no? cazzo mi ricordo che mi distruggeva mentalmente all'inizio no? non sapevi neanche più come andare fuori perché magari se li trovavi ti vergognavi di uscire da casa e poi fondamentalmente anche lì sviluppi l'abilità di dire io ho un obiettivo e magari oggi le stesse persone che poi no? dieci mesi fa dieci anni fa tre anni fa ti sputtanavano oggi sono lì che ti dicono ma come hai fatto no? hai capito? quindi era giusto anche per dire se si è forti qua e se si crede in una cosa in un obiettivo abbastanza importante poi quando ci arrivi a farlo diventa tutta un'altra cosa quindi dare anche poca attenzione a queste cose a questi attacchi io ci sono rimasto molto molto male un paio di anni fa perché un mio caro amico che conosco dalle elementari da tanti tanti anni sono venuto a sapere che parlava in giro ma Sam ma cosa vuoi che faccia? no l'affitto glielo pagano i suoi genitori e tutto quanto perfetto poi qualche mese fa si è reso conto comunque delle cazzate che diceva però sono cose che lì per lì cavolo dici ok sto seguendo un obiettivo è questa direzione ti rendi conto di realmente quante maschere hai intorno quante persone che vogliono buttarti giù perché vogliono buttarti giù non per altre situazioni ma è chiaro sono insicure sul loro stesse sul loro futuro e quindi vogliono vanno a attaccare i più forti ma è chiaro ma come ho detto prima infatti è la cosa più semplice ti hanno mai attaccato Alberto a te? no solo complimenti no esatto solo complimenti vabbè alla fine avete detto tutte cose giuste che alla fine chiunque voglia fare qualcosa un po' di serio di diverso nella vita alla fine viene sempre un po' criticato quindi anche il venditore esatto deve accettare queste cose qua che tutto il risultato che lui arriva a fare delle vendite passa da degli attacchi da dei nodi da delle rotture di palle ok però questo è il merito al venditore parlavamo prima dei guadagni cioè del fatto che comunque devi guadagnare soldi tutto questo lavoro però anche il si parla sempre poco spesso di dell'azienda in cui io vado a lavorare cioè quello fa comunque la differenza in un'ottica di cioè tu devi entrare in un'azienda è come se tu scegliessi una collaborazione cioè una partnership in cui quello diventa il tuo partner come fosse il tuo fidanzato o la tua fidanzata cioè il concetto è cazzo non è che io vabbè basta che vado vendo eccetera perché magari passati 3-4 mesi o 6 mesi ok un anno se non è la cosa con cui sono allineato alla vision al progetto aziendale a quello che sto facendo sì poi alla fine ragazzi la zolfa è sempre quella che cambia quindi secondo me il ragionamento anche dell'azienda in cui vado a lavorare per costruire un progetto sul lungo termine che non è solo dire guadagno per i prossimi 6-12 mesi ok ma anche dire proprio perché magari mi posso creare un pacchetto clienti cioè se io vedo la cosa a 360 gradi in ottica di cosa sto mettendo che mattonella sto creando questo cazzo è una cosa molto più ampia del vendo oggi alla fine mi rendono le provvigioni finita lì sì infatti mi fa sorridere il fatto che prima parlavi Patrick delle domande che magari ricevi di solito un'altra domanda famosa in merito alle aziende ma ci sono aziende con cui posso guadagnare almeno 3.000 euro al mese 4.000 euro al mese come se è normale che ci siano ci saranno sicuramente aziende che sono disposte a pagarti anche molto di più è chiaro che un'azienda magari come la vostra che ha determinati standard vuole venditori che rispettino determinati standard che hanno una certa mentalità uguale il venditore può andare a collaborare con determinate aziende se è in grado di portare determinati risultati se si posiziona in un certo modo quindi spesso bisogna lavorare su se stessi per poter andare a lavorare con aziende di un certo tipo però in ottica di lungo termine è normale che anche per il discorso di stabilità che facevamo prima non posso collaborare con l'aziendina di turno che non è in grado di garantirmi una stabilità in qualche modo sì esatto che parte che parte dalla stabilità di leads al lavoro alla tipologia di clienti e quant'altro e poi secondo me parlando anche un po' più dal lato imprenditoriale è proprio il tema di dire alla fine tu non devi preoccuparti se c'è aziende che mi possono dare questi soldi qua ma in realtà è il valore che io porto dentro di quell'azienda lì perché alla fine un'azienda ha un budget quindi in qualche modo quel budget va usato e va distribuito quindi se io dimostro all'azienda che sono di valore non è un problema che riconosce il valore a te perché se te stai portare numeri i soldi ti vengono cioè ti ritornano quindi è una cosa come fosse parliamo di meritocrazia ma questo è assolutamente devo dimostrarti che mi merito una buona parte di quel budget tutto qui se me lo merito allora me lo dai molto molto semplicemente mi fa ridere quello che dicevi anche prima perché molti nostri studenti noi tendenzialmente il nostro percorso dura intorno ai 90 120 giorni quindi 3-4 mesi più o meno mese più mese meno è soggettivo ovviamente e magari sono persone che al terzo mese e mezzo dicono noi volevo iniziare entro settimana prossima non da due settimane faccio cavolo fai zoom out da qui a 10 anni pensi che ti interesserà nel 2033 se hai iniziato ad agosto o settembre no pensa a lungo termine cavolo lavora sul lungo termine non sull'agosto sul settembre cioè lì cambiano le cose siamo troppo più che altro focalizzati su quello che succede domani cazzo senza pensare a veramente mettere le basi ci porta un po' a tutto il mondo in cui viviamo oggi a questo un po' però lo fa anche il marketing perché è un qualcosa a volte e noi lo sappiamo bene perché facciamo tutti marketing e quindi anche le forti promesse fanno la differenza allora io dico ripeto usiamo il marketing in maniera giusta ok cioè noi oggi apriamo i social network e sti fantomatici guru con Lamborghini a Dubai sui grattacieli che bevono Don Perignon dalla mattina alla sera influenzano poi le scelte di questi ragazzi perché è così cioè nel senso credo che tutti noi abbiamo il nostro stile di vita chi più chi meno chi gli piace fare una cosa chi gli piace fare l'altra però fondamentalmente oggi apri i social è solo quello quindi è chiaro che questi guru che fanno determinate promesse che entrano all'interno dei social non trovano nulla di educativo trovano solo Lamborghini champagne e tutto loro dicono cazzo io in tre mesi devo iniziare a fare 10.000 euro al mese poi se vai a scorporare la cifra e ci hai lavorato dietro capisci poi realmente quanto ci metti ad andare a fare quella cifra lì e cosa succede queste persone prendono le porte in faccia e sono come le api che vanno sui fiori per vedere qual è il miele più buono perché è così e ormai fortunatamente dopo un bel po' di anni di esperienza queste persone noi le abbiamo pesate e abbiamo capito cioè siamo i primi noi ad allontanarli ok perché è inutile che ti faccio un colloquio per quanto riguarda il primo sulla vendita per una possibile collaborazione mi dici ma con voi quanto si guadagna cioè hai sempre ne ho per il culo ma tu ti meriti bravo ok e io infatti l'ho detto ma con lui a volte litigate sane io il fisso abolirei anche magari a commerciali che magari anche come me cioè nel senso io la prima cosa che gli ho detto quando abbiamo iniziato a lavorare c'è previsto un fisso chiaro vengo avanti indietro a Milano roba mi dai il borsospesi ma io poi il fisso non lo voglio cioè devo mettermi scomodo mese dopo mese per me il fisso ammazzi la figura del venditore almeno chi puoi pagare a percentuale che hai il pieno controllo sui numeri devi pagarlo solo su percentuale cazzo questo è un po' il venditore il lavoro doc da pagare a percentuale perché è proprio il più meritocratico io pagherei tutti a percentuale vi dico la verità se riuscissi a scorporare un dato per ogni mansione aziendale io pagherei tutti su percentuale però cazzo abbiamo pensato un sacco di volte il concetto di cavolo se fosse misurabile ogni singolo membro il team sarebbe fantastico esatto altro livello ma che in realtà per certi versi lo sarebbe anche e poi capire esattamente in un'ottica di scalata quanto poi tutto diventa sostenibile perché magari quando fai X va anche bene poi quando magari cresci tanto ti ritrovi a e spesso questo distrugge squadre perché poi alla fine è quello perché se ti ho abituato in una modalità per X anni non è che poi dal domani te mi dici quindi c'è poi sempre trovare sempre un equilibrio corretto però io sono dell'idea che secondo me il venditore non deve assolutamente io devo veramente incentivarti anche con dei piani magari che scalano di provvigione in crescita che magari non deve essere una provvigione fissa eccetera però è l'abilità per eccellenza che deve essere approvvigionata che tu devi essere quella tipologia che vive alla fame del risultato cioè non puoi essere lì capito e devi vedere il venditore come il socio allungato dell'azienda alla fine perché poi questo è capito l'imprenditore davvero ti prende come socio ti dà una parte dell'azienda ti occupi delle relazioni con i clienti del fare entrare clienti e ti prendi una percentuale quindi sei a tutti gli effetti un socio esatto volevo dire una cosa inerente a quello che diceva Patrick prima di quello che vediamo in giro dei vari guru e tutto quanto con promesse anche a volte poco verosimili un sacco di persone vengono da noi dicendo cavolo ho preso il corso di XYJ diceva che in 30 giorni diventavo venditore cavolo anche lì noi diciamo in linea di massima 90-120 giorni a volte sono anche 150-180 dipende dalla persona però moltissime persone promettono davvero di diventare un venditore telefonico alto pagato da 5k al mese in 30 giorni cavolo ragazzi diamo il giusto peso alle cose diamo il giusto peso alle cose perché ovviamente ogni cosa ha il suo peso non è così verosimile in 30 giorni rivoluzionare tutto a livello mentale il lavoro che dicevamo prima serve comunque del tempo del lavoro dell'esercizio quindi anche lì fare le promesse giuste è fondamentale parliamo un po' del libro avete sì allora volevo far visto che parliamo di vendita proprio no andiamo spudorati come Jordan Belfort vendimi questo libro guarda la Camly vendetemi questo libro in diretta dopo alla fine ragazzi è un libro che si vede da solo esatto volevamo parlare un po' del libro magari Albi tu hai più esperienza sul fargli qualche domanda cioè da cosa nasce chiama e arricchisci te stesso quindi spiegateci un po' in breve cosa racchiude questo libro che sembra più un manuale vedendolo diciamo che sicuramente come si evince dal titolo prende ispirazione da Pensare di Chichite stesso di Napoleon Hill e anche lì abbiamo sentito il bisogno di andare a creare un qualcosa che manuale appunto sulla vendita telefonica in Italia che andasse a racchiudere un po' i concetti di base perché poi un libro chiaramente non può non può comprendere tutto quello che comprende un percorso però i concetti di base per avvicinarsi al mondo della vendita per avere qualcosa di nosso che potremmo poi andare a dare nelle case degli italiani e che effettivamente potesse far avvicinare la persona a quello di cui abbiamo parlato fino adesso quindi di competenze del fatto che c'è un'alternativa alla strada tradizionale c'è questo mondo delle abilità che possono essere ben pagate ben richieste e come avvicinarsi a questo mondo qua in particolare con la vendita telefonica e che poi diventa a tutti gli effetti un asset cioè il libro è un asset a tutti gli effetti e io ne ho scritti due e quello che ho sempre visto nella scrittura di un libro è che ti fa fare un'introspezione e dei ragionamenti dove tu quello che stai scrivendo devi essere veramente certo e chiarisci spesso anche molte idee perché quando ti metti lì a scrivere delle cose devi chiarirti tutta una serie di punti che alla fine è anche formativo per te che lo scrivi non è solo cazzo quella parola lì singola parola resterà nelle case delle persone magari per vent'anni devo essere sicuro di quello che sto scrivendo perché non è una cosa così semplice esatto anche perché un webinar lo rifai un video lo rifai il libro non è che ti metti a farlo ogni mese e poi non vai in casa di tutti quelli a cui l'hai venduto a riprenderlo e correggerlo non puoi farlo ovviamente quindi sì come diceva Tommy ne andiamo molto fieri anche perché spiega come dicevamo prima sia il nostro percorso a livello di vendita e a livello introspettivo quindi è diviso in due parti una prima parte che è più a mia cura una seconda parte che è più a cura di Tommy nella mia parte parlo di tutta quella che dicevamo prima la parte mentale quindi presa sulla falsa riga di pensare che c'è stesso verticalizzato sul mio percorso sul nostro percorso come l'aspetto mentale ci ha cambiato e ci ha permesso di raggiungere effettivamente questi risultati e nella seconda parte invece Tommy verticalizza molto meglio tutto quello che è stato il processo di vendita che ad oggi abbiamo anche un marchio prevettato sul nostro processo di vendita il metodo Pozzoli-Sermanni è fatto per filo e per segno a livello molto più tecnico molto più concreto figo bello allora ragazzi io direi che abbiamo toccato un po' di punti interessanti abbiamo secondo me questo ecco probabilmente è il podcast più incentrato sulla vendita che diciamo abbiamo sicuramente registrato quanto meno ecco da quando è nato è nato il podcast e poi abbiamo avuto la possibilità di interfacciarsi a 360 gradi lato sempre editoriale lato venditori lato responsabili vendite e quant'altro comunque abbiamo toccato sicuramente questa è la puntata anche per i venditori cioè questa è se sei un venditore devi guardare questa puntata ok siccome noi oggi tutte le puntate che facciamo le registriamo con tre consigli finali che facciamo dare all'ospite e oggi chiederemo e quindi saranno quattro consigli perché due di Samuel e due di Tommaso quattro consigli che volete dare due a testa su una persona che guarda questa puntata per diventare il venditore voglio pensarli bene i consigli sono sempre sicuramente focalizzati sul tuo obiettivo e capisci che obiettivo hai se non hai un obiettivo non puoi fare nulla qualunque questo sia al di là del venditore può essere un obiettivo sportivo un obiettivo personale un obiettivo lavorativo cerca di averlo chiaro questo è il primo consiglio che secondo me è essenziale senza di esso non puoi fare assolutamente nulla e consiglio numero due sembra scontato però trova i mezzi migliori sulla base delle persone che hanno già raggiunto quell'obiettivo lì e segui quelle persone perché perché c'è chi l'ha già fatto quell'obiettivo lì e se copi quello che ha già fatto lui hai molto più garanzia di successo copiare incollare che non ci viene insegnato ma in realtà funziona anzi a scuola ci bastonano se non si occupiamo dal compagno di banco in realtà collaborare è sempre utile esatto vai Tommaso allora vediamo sicuramente valutare rischi e benefici dell'iniziare un'attività abbiamo detto che fare imprenditoria ha tanti rischi fare il venditore ha sicuramente molto meno rischi quindi andare a prendere in considerazione queste due cose quello che posso guadagnare nell'iniziare un'attività di questo tipo quello che posso perdere eventualmente se ho qualcosa da perdere magari un lavoro o un qualcosa e metterlo sul piatto della bilancia e prendere una decisione valutare però fare azione cioè agire quindi o in un lato o nell'altro però prendere seriamente in considerazione la cosa e poi smettere di autolimitarsi pensando che no cavolo ci deve essere un trucchetto dietro chissà questi qui che stanno facendo questo discorso così no devono aver avuto qualche consiglio magico no l'hanno fatto persone normalissime noi siamo partiti che veramente non avevamo alcuna competenza quindi quantomeno avvicinarsi a questo mondo in maniera genuina penso che sia una cosa intelligente da fare ultimissimo bonus think less do more fare fare cioè non aspettare non procrastinare fai perché sicuramente puoi tenere più risultati facendo qualcosa che pensandoci dieci anni dietro fai qualcosa e just do it come dice Nike bene ringraziamo Tommaso Samuel e Patrick per la puntata di oggi io vi invito a seguire il podcast fatturare fatturare e seguite anche questi ragazzi qua e tutto il loro operato noi ci vediamo con una nuova puntata grazie mille ragazzi sempre un piacere grazie mille ragazzi grazie mille ragazzi